a questo punto già lo vedo sta sbadigliando sta sbadigliando quindi è stanco perché pedalare stacca vincenzo cervi nostro pedalatore ciao vince allora tutto a posto dove dove sei oggi adesso sono vicino a civita vecchia wow stasera penso di prendere il traietto tra un po preparo un po tutto e vado al porto vedere cosa trovo di biglietto che sei passato dall'aurelia hai visto la caserma si è passato non ho ancora attraversato civita vecchia sono un pelino fuori sono a nord sei a nord quindi ecco prima di arrivare fai l'aurelia passa davanti alla caserma d'avanzo sei a 10 km credo da civita vecchia tanto una pedalata in più uno in meno su 7000 km dimmi te dimmi te senti hai fatto hai fatto un video vorrei farlo vedere un video molto bello anche in audio ma chi è che te li monta questi tuoi video chi li fa le foto lo fai tu io ma sei bravissimo vi faccio vedere ecco però vincenzo devi 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 far silenzio perché c'è l'audio quindi se no se no sentiamo due vincenzo quindi ecco qua vediamo un po che cosa ha da dirci sentiamo anche perugia archiviata e ora dopo due giorni di fermo ce ne andiamo al lago di corbara 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 guarda che video che ha fatto con le immagini bellissime guardate che bello l'italia prati in fiore adesso lo dico ci sta seguendo dalla radio lago di corbara ha messo anche i titoli documentarista pazzesco la pedalata anche velocizzata la velocità 36 orari bravo è pianura però bravissimo 35 km di salita mi mancano ancora più di 20 km per arrivare al posto brucio la bici e compero la moto non ci credo questo cos'è il golfo adesso ce lo facciamo dire da vincenzo bellissime immagini bellissime immagini insomma questo arrivo poi direttamente sul mare guardate che bello fantastico vincenzo complimenti bellissime immagine dove eri quale spiaggia eri lì no quello lì è un lago ah sembrava mare sembrava mare pazzesco con le onde curioso perché quasi rotondo perché di origine vulcanica lago di bolsena è un bel posto bellissimo complimenti davvero complimenti e poi ci sono anche ecco le immagini guardate qui è la tua colazione dove eri a far colazione ero praticamente quasi spiaggia del lago di bolsena e mi sono dedicato una tra l'altro il barista è un ciclista e come mi ha visto mi ha chiesto un po' di robe eccetera e niente mi ha detto che anche lui va in giro a fare lui fa le gare eccetera e aveva fatto una gara da 8 mila metri di dislivello mamma mia in una giornata quando ha visto che c'era il logo di radio alta mi ha chiesto cosa fate le dirette e spiegato mi chiedono ma che cos'è la radio eccetera e in tre o quattro mi hanno detto ma questa qui è una radio del nord e poi gli spiego la cosa comunque sono tutti curiosi quando mi vedono in giro specie con le borse e certo è chiaro ecco qua cos'è pane e mortadella vedo cos'è è una aspetta vincenzo perché aspetta perché il collegamento è un po' ballerino stamattina ti sento un etto e mezzo di mortadella un etto e mezzo di mortadella abbiamo capito il collegamento è un po' ballerino questa mattina non è perfetto e poi insomma foto dei luoghi d'italia che sono bellissimi ottimo senti vincenzo la prossima settimana non siamo in onda tu comunque mandami i tuoi reportage i tuoi video che poi dal nove recuperiamo anche questa questo passaggio dalla penisola all'isola perché poi sarai in in sardegna la fai in senso orario anti orario anti anti quindi andrai da da olbia immagino andrai verso al ghero poi bosa e poi sant'antioco cagliari bellissima sardegna io la amo è straordinaria vincenzo allora intanto buon viaggio mi raccomando ti vedo sai che ti vedo più in forma rispetto agli inizi del del tuo cammino ma guarda ci sono stati tre giorni adesso di caldo e diciamo tempo ideale ho fatto infatti due giorni ho fatto qualcosa come 180 chilometri caspita va tutto bene ottimo senti qua ti arrivano i saluti anche degli ascoltatori ci sono ruben e giusi che ogni volta che facciamo il collegamento mi dicono di salutarti li conosci saranno tuoi amici ruben mi hanno aiutato anche allenarmi andando in giro la domenica a fare varie piste va bene va bene allora vincenzo buona fine settimana buon primo maggio prudenza nella nella guida manda le tue foto e poi lunedì lunedì 9 maggio ti do anche l'orario 8 e 35 ci sentiamo ok così facciamo un po il punto della situazione dove dove sarai lunedì prossimo secondo me già fatto il giro della sardegna per me cagliari l'ho già l'ho già fatta penso spero ok tu mandami comunque tutte le foto possibili vuoi salutare qualcuno giusi sicuramente giusi i miei suoceri ovviamente perché sono i miei tifosi e niente una serie di amici che anche nuovi amici che tramite appunto la trasmissione mi hanno contattato continuano tutti classico mola mia ottimo alla verga masca e veramente sono tantissimi e vorrei ringraziarli tutti sono sono contento vedo che sei in campeggio la giornata è buona quindi buon viaggio per questa per questa giornata c'è venerdì poi sabato e domenica e ci sentiamo lunedì 9 9 maggio dalla dalla sardegna con il pedalatore instancabile vincenzo cervi chiedete l'amicizia andate su facebook ecco mi hanno dei miei mi hai detto che tanti amici si sono collegati con te continuate ancora a farlo cercatelo vincenzo cervi così comunicate con lui vi tenete compagnia ho quasi qua sono quasi arrivato ai primi mille chilometri mille chilometri ale fantastico ne mancano 6.000 eh ne mancano 6.000 da fare ciao vincenzo ciao grazie grazie buon primo maggio ciao ciao pedalatore colazione con radio alta radio alta